...punto, proposta di risoluzione avendo oggetto modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione con utilizzo degli oneri a scomputo da parte dei privati e delle associazioni consortili. Chi è che presenta questa... Chi è che presenta... Ah, ma... Perfetto, consigliere Poli, prego, puoi esporre. Ringrazio Presidente, colleghi consiglieri, Presidente Fantino. La discussione che abbiamo appena celebrato credo che abbia ben inquadrato, ci faccia ben comprendere adesso la seconda parte della risoluzione e quindi degli atti che abbiamo all'attenzione che riguardano le modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito delle zone O. Quindi, se per la prima parte abbiamo sviscerato tutto ciò che c'era da esaminare per ciò che attiene lo strumento urbanistico, adesso invece andiamo all'attuazione pratica per la realizzazione di una sala urbanistica. Devo partire dal 1995, quando l'assemblea comunale, con la deliberazione numero 107, ha dato un punto di svolta epocale alla trattazione urbanistica per ciò che attiene il risanamento urbano e ambientale delle aree destinate ad abuso edilizio. Eravano i tempi del cosiddetto secondo condono edilizio, in base al quale l'amministrazione comunale ha deciso che all'interno delle zone O, quindi delle aree più in difficoltà, quelle più periferiche peraltro, si potesse procedere a una nuova edificazione sia su iniziativa privata che su iniziativa consortile, prevedendo uno strumento per l'epoca estremamente innovativo e valido, secondo chi vi parla anche adesso con alcuni correttivi che andremo ad esaminare a breve. Che cosa ha detto alla deliberazione? Che per consentire questo sviluppo urbanistico in queste zone particolari per la prima volta ha consentito la costituzione, la formazione di forme consortili che potessero garantire l'unitarietà dell'intervento, la raccolta degli oneri che prima andavano al comune per la realizzazione delle opere di riorbanizzazione e procedere, quindi l'assesso organismo, alla concretizzazione di queste opere di riqualificazione importante delle zone più in difficoltà. Alla delibera numero 107 ne sono seguite altre, almeno altre 4 o 5, perché poi l'amministrazione comunale ha dovuto conformarsi alla legislazione statale per cui ogni volta il Parlamento ha emanato le leggi che modificavano il codice degli appalti o le procedure per l'affidamento dei lavori, ovviamente l'amministrazione comunale è andata di pari passo con una serie di deliberazioni, tutte però confermando la validità dello strumento dei consorsi per l'attuazione di queste opere di urbanizzazione. In verità queste delibere hanno dato anche la possibilità ai singoli costruttori che sono presenti nelle zone, quindi piccoli proprietari, di poter autonomamente procedere non versando né al comune né al consorzio, per cui noi abbiamo dei casi, in particolare Centroni recentemente, dove un proprietario ha deciso di non versare gli oneri al comune, di non versarli al consorzio, ma di procedere gli stessi alla riqualificazione, previo ovviamente alla combatura che il piano particolarizzato gli consente, per poter effettuare queste opere di urbanizzazione. Allora, quando noi parliamo di urbanizzazione ovviamente parliamo delle fognature, impianti di deburazione locale, rete idrica ed elettrica, strade illuminazione pubblica, verde pubblico, questo ovviamente tutto a scomplito degli oneri concessori. Oltre, esatto. Che cosa succede? Nel tempo noi abbiamo registrato una serie di sollecitazioni che ci pervengono dai territori, che abbiamo registrato sia dalla lettura degli organi di stampa, ma anche personalmente, perché li abbiamo auditi in commissione, e il 16 marzo scorso non è sfuggito che il sindaco Marino e l'assessore Pucci si sono venuti nel nostro territorio a parlare proprio, oltre delle attività, insomma delle azioni che il sindaco ha effettuato in questi due anni, a parlare anche di questa problematica. Non sono mancati spunti di criticità che sono stati rappresentati sia al sindaco che all'assessore, alcuni credo che nemmeno li conoscessero, per cui bene hanno fatto i comitati e i privati che sono intervenuti per rappresentare questo stato di criticità, e la risoluzione va proprio nella linea che ha auspicato sia al sindaco che all'assessore Pucci di pervenire a una modificazione della regolamentazione attuale, affinché risulti più trasparente nei rispetti degli effettivi bisogni dei territori. Rispetto a quel dibattito che c'è stato al centro Anziani della Romanina, la risoluzione chiede anche una cosa in più, ovvero che il municipio come organo di prossimità possa essere davvero protagonista e quindi contribuire insieme all'associazione consortile, insieme al Dipartimento, alla scelta delle priorità delle opere che vanno a realizzarsi. Qui il collega Matrono adesso si è allontanato, e quando il collega Matrono diceva che questa cosa degli allagamenti di Vermicino prima non si sentivano, bene io abito vicino Vermicino, vicino proprio al piale del Casale Paoloni, e prima gli allagamenti non c'erano. Gli allagamenti ci sono da quando il consorzio ha cominciato a diventare pienamente operativo con la costruzione di tutte quante le abitazioni, perché Vermicino manca dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche, per cui le acque vengono convogliate per strada, e peraltro ci sono anche degli accertamenti del nostro ufficio spettorato edilizio su alcune impianti di deflusso che sono stati realizzati, che provocano quello che la signora prima ci ha detto. Non voglio farla lunga, fino adesso le deliberazioni comunali chiamano il municipio alla partecipazione delle conferenze di servizio, alle conferenze di servizio partecipano i tecnici del municipio, che danno un loro parere, che ovviamente è come il parere che noi diamo, nel senso che sull'opera in sé, ma la decisione politica della scelta, quindi della priorità, se è meglio fare un parcheggio o se è meglio fare un impianto di raccolta delle acque meteoriche, ritengo che invece necessita di un passaggio in più. L'assessore Pucci lo ha riconosciuto, ha detto che c'è una mancanza, la risoluzione vuole sollecitare, quindi impegnare la nostra Presidente a sollecitare l'aggiunta comunale, quindi le varie articolazioni, perché poi le competenze della realizzazione delle opere di urbanizzazione sono dell'assessore Pucci, ma la formulazione dei piani particolarizzati attengono all'assessore Caudo, perché trattano ovviamente della materia urbanistica in senso generale. Per cui, voglio dire, la finalità della risoluzione qual è? È quella di sburocratizzare, se vogliamo usare un termine molto in voga adesso, ma quindi rendere più trasparente questo processo, rendere soprattutto protagonisti nelle scelte che vanno a fare le associazioni consortili, il municipio come parte politica, e ovviamente le associazioni e i cittadini che vivono quel territorio, chi meglio dei cittadini che abitano un territorio possono decidere o dare indicazioni su quale opere fare o non fare, o qual è l'ordine di priorità di realizzazione. Per cui, noi chiediamo con la risoluzione, se il Consiglio si appresterà a votarlo, io auspico chiaramente di sì, che questa nuova regolamentazione ridisciplini in senso generale la materia, per renderla più semplice, e che le pianificazioni che vengono formulate o comunque trate dall'associazione consortile siano sottoposte nell'ottica del decentramento effettivo alle valutazioni politiche del Consiglio del municipio, delle commissioni, in modo che di concerto con i dipartimenti, mi sembra ovvio perché è il dipartimento che fa il tre di unione di tutto, si possa pervenire a opere che effettivamente servono per il territorio, per il nostro municipio, e che non si realizzi in opere che semmai appesantiscono in una situazione già difficile. Ci sono poi dei richiami sulla operatività dei consorsi, si debba stabilire in maniera inequivota come le risorse economiche dei territori rimangano nell'ambito della zona O, nel rispetto delle priorità segnalate dai cittadini e dal municipio. Ove questo non succeda, ovvero che un consorzio ha terminato la sua operatività o ha terminato la realizzazione delle opere, laddove l'amministrazione centrale non decida di sciogliere il consorzio, solo in quel caso, di concerto col municipio, si decide di spostare oneri per la riqualificazione di comparti vicini, ma solo se la natura, quindi la finalità del consorzio, è terminata. Per cui, se il consorzio non è più operativo, ha terminato le opere da fare, ma ha soldi in cassa, mi sembra normale che, voglio dire, questi soldi vengano utilizzati e non rimangano nelle casse del consorzio in operativo. La risoluzione poi chiede anche la sospensione dell'idea dei progetti pianificati, anche se già presentati in serie di conferenze di servizio, ma non approvati. Infine, l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di ogni dato che possa essere utile ai cittadini e a noi stessi, di poter essere consapevoli alla diretta partecipazione del territorio che urbanisticamente vogliamo trasformare. Il Consiglio, inoltre, se approverà la risoluzione, impegna la Presidente a promuovere di concerto con l'amministrazione un incontro, anche nell'Aula Consigliare, con la presenza dei Dipartimenti e dei Presidenti dei Consorzi, affinché venga chiarito a tutti lo stato dell'arte, quindi le risorse finanziarie che sono a disposizione, le opere realizzate, le opere realizzate effettivamente collaudate, che questo è un altro problema che noi abbiamo, voglio dire, percepito e affrontato nel corso dei nostri lavori. E poi le opere che sono in corso di pianificazione e realizzazione, perché mi sembra corretto che tutti abbiano conoscenza e coscienza di che tipo e che modalità di trasformazione urbanistica sta interessando il nostro territorio. La ringrazio, Presidente. Allora, grazie Consigliere Poli. Apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Madrono, la prego. Grazie. Allora, questa è la seconda parte che riguardava i consorsi. La prima parte aveva iniziato. Volevi dire, Consigliere Poli, è brutto dire se è più giusto fare una piazza o fare un indotto. Non è bello, perché si sta creando una spaccatura a vermicino proprio da questo atteggiamento. Allora, io le dico, Consigliere Poli, la piazza è stata programmata tanti anni fa. Al Dipartimento l'ingegnere Martinelli c'è da tanti anni. Quindi, e diciamo, gli allagamenti a vermicino ci sono da diverso tempo. Tanti. Il Comitato di Quartiere di Vermicino, se non erro, si è costituito ufficialmente nel 2013. Credo giugno, luglio 2013. Non è mai venuto a conoscenza degli allagamenti fino a che non ci è venuto l'anno scorso, nel 2014, il primo allagamento grande, agosto, credo che risalga agosto, ma il Comitato di Quartiere credo che sia venuto a conoscenza il mese di settembre. Ma la cosa che mi lascia un po' perpesso, qual è? Se il consorzio, il consorzio, ben venga questa risoluzione, per carità, trasparenza, trasparenza, tutto, perché noi vogliamo sapere i consorzi quanti soldi hanno, quanti anni hanno, vogliamo sapere tutto. Però voglio chiedere, il consorzio può intervenire su un'opera senza che il progetto venga approvato dal Dipartimento? No. Oh. Il Dipartimento ha mai chiesto al consorzio presentami un progetto? Risposta, sì o no? Perché se tu dici che la piazza è un problema, io ti dico che il Dipartimento su Via Casalpaoloni gli ha chiesto il progetto per rialzamento della strada di Via Casalpaoloni di 20 centimetri, ma no perché ha costruito male il consorzio, perché qualcuno ha edificato male sui confini, perché scarico ma non è colpa, cioè non facciamo, non criminalizziamo ogni volta il consorzio, il consorzio, perché stiamo mettendo soltanto della benzina sulla paglia per ammazzare i consorsi, perché ci sono consorsi buoni e consorsi cattivi, quelli attivi e quelli meno attivi, però stiamo attenti a criminalizzarli tutti quanti, perché ripeto, l'assessore Pucci, che è assessore da due anni, si è accorto adesso che c'è una piazza che deve essere finita e si è accorto adesso dal 2014 che c'è l'allagamento, adesso di punto in bianco perché qualcuno qua dentro questo municipio si è presentato lì, si è messo quattro stellette qua da vicepresidente e ha detto ce ne deve pensare il consorzio, no, perché il sottoscritto ha presentato, ha fatto una commissione legalità e sicurezza e ha convocato il consorzio, ha convocato l'assessore Morgia, ha convocato il dipartimento e il problema qual è? Che il consorzio senza l'autorizzazione del dipartimento non fa nulla, questa è la cosa principale, quindi non dite che il consorzio c'è i soldi e non lavora, il consorzio non ha le autorizzazioni, perché il dipartimento non gli dà autorizzazioni? Oppure perché gliele dà in parte? Perché volete scaricare tutto a corpa sul consorzio? Perché il comune deve cacciare i soldi di tasca sua, perché qualcuno prima mi ha detto che per eliminare la zeta, che la zeta non è un problema, perché togliere la zeta significa che tu potresti spostare il problema più a valle e allagheresti a valle e poi che togliamo? A valle che io togliamo? togliamo le case per far passare la fogna. No. E allora il problema qual è? Non ci vogliono 100.000 euro. E il dipartimento perché gli dice di non intervenire al consorzio? Perché sa che il consorzio non ha tutti qui i soldi per intervenire su quel fosso, perché per fare quel fosso ci vogliono circa, voglio spararmi, voglio tenermi contenuto, ma stiamo sui 700.000 euro. Cioè là bisogna rifare il fosso dal confine nostro che viene da Vermicino, il confine su dei frascati fino a scendere, perché qualcuno mi deve spiegare perché in certi momenti il fosso si allaga e in certi momenti anche se non piove, cioè quando non piove si allaga, si alza e quando piove delle volte sta col livello basso. C'è un motivo? O c'è qualcuno che apre e che ti toglie? Allora non è un fosso, quel fosso fa diverse derivazioni e poi c'è un altro problema. Intervenire sul fosso tu come consorzio dovresti entrare dentro la proprietà privata e dentro la proprietà privata chi ti ci fa intervenire? O la protezione civile in caso di emergenza o devi fare l'esproprio. L'esproprio passano 10 anni quelli continuano alla gasse allora il problema è un altro. Non è l'esproprio, non è la protezione civile è qualcuno e ha detto bene il Presidente prima che si attiverà ne stavamo parlando è qualcuno che al Dipartimento deve dire per quale motivazione non si interviene perché si interviene là e non si interviene là ma no eliminando la piazza che può essere pure un'opera secondaria per carità ma potrebbe essere anche un'opera che interessa i cittadini perché non c'è la piazza il Vermicino perché deve andare alla piazza dice ok le va allagamento ma facciamo tutte le due cose insieme togliamo l'allagamento ma vediamo quanto costa Casal Paoloni Casal Paoloni allagamento non è che stiamo a parlare di Morena stiamo a parlare di Casal Paoloni Casal Paoloni è il cuore del Vermicino in linea di Massima e allora intervenire su che cosa? Intervenire e ripeto sul Dipartimento perché il Dipartimento perché io ti posso dire che il nostro caro Martinelli anche se è registrato può risentire pure la registrazione più di una volta il Consorzio gli ha presentati i progetti ma i progetti sono giacenti perché è l'ultimo progetto per livellare Casal Paoloni per rialzarlo per rimanere tutti i muri a novembre ottobre dell'anno scorso e ancora stiamo aspettando stiamo aspettando che il Dipartimento una volta perché si è trasferito al Dipartimento sapete che si è trasferito quindi c'erano tutti i scatoloni si è mischiato tutto quanto quindi hanno aspettato poi una volta che si sono trasferiti tutto quanto giustamente sono arrivati i documenti sono arrivati i documenti li hanno visionati però stanno fermi là adesso che mi va un assessore e dice beh forse ho capito forse la piazza non è prioritaria sta sbagliando anche l'assessore perché non è andando su e facendo i generali di brigata dicendo se può fare o non se può fare tu devi vedere i cittadini se lo vogliono o se non lo vogliono e se può intervenire per eliminare perché è giusto c'è sta gente che sta all'aga che dorme dentro la pensione ma ci sta dormendo ad agosto e noi se siamo ricordati 15 giorni fa oggi pomeriggio che c'è tutta una delegazione che sta sopra oggi c'è il consorzio oggi si vota sul consorzio sui consorzi oggi c'è una delegazione che sta a vermicino c'è sta il dipartimento c'è la protezione civile c'è sta l'assessore c'è il vicepresidente c'è stanno tutti quanti e io mi lamentavo mi lamentavo che mancava il vicepresidente morgia perché la presidente non c'era perché stava su giustamente però non si può andare e dire in giro il consorzio può farlo o non può farlo è il dipartimento il nocciolo della questione è il dipartimento è il dipartimento che impone quello che si deve da fare e quello che non sa da fare come il matrimonio sto matrimonio non sa da fare o sto matrimonio sa da fare è lui che gli deve fare che deve consentire il matrimonio è questo che non fa e in questa risoluzione io ce l'avrei messo ancora più forte che si i cittadini devono essere devono condividere su tutto quanto quello che riguarda le opere primarie secondarie terziarie tutto quanto perché vi dico un'altra cosa via di Casal Matteo San Matteo via vicolo di San Matteo l'allagamento sta anche là in minima parte però si confrisce tutto quell'allagamento va a sbattere giù verso Casal Paoloni sta succedendo allora che cosa è successo devono allargare la strada di un metro per far passare i tubi per ingrandire i tubi e per dare sfogo a tutte le case che hanno costruito anche il consorzio l'ha costruito il consorzio ha preso i soldi per le opere primarie non è che l'ha costruito ma i frontisti non indietreggiano di un centimetro continuano ad allagarsi ma non lasciano non lasciano un centimetro di quel terreno scusate il pubblico non può intervenire silenzio non indietreggiano più un centimetro sul via del fosso di San Matteo per concedere per il passaggio della fogna per l'ingrandimento della fogna che poi si va a coinvolgere con tutta con quella parte che ci dovrebbe essere una fogna di raccolta di raccolta perché quando piove ci dovrebbe essere una fogna che scarica dentro ci dovrebbe essere un collettore che scarica dentro la fogna dopo lì quando diminuisce il flusso dell'acqua viene abbassato il livello di acqua e gradualmente l'acqua defluisce è stato chiesto anche questo ma la competenza è della CEA e la CEA non interviene allora io dico al Presidente Presidente io l'ho detto prima organizzi una riunione con tutti i soggetti interessati con tutti gli attori interessati dopo di che ha fatto questo da quella riunione deve uscire fuori la conferenza dei servizi perché è la conferenza dei servizi che decide quello che sa da fare o non sa da fare e per questo mi taccio perché se no vado oltre basta grazie applauso grazie Consigliere Madronola prego Consigliere Giuliano grazie Presidente allora parliamo quindi di oneri il tutto nasce in riferimento agli oneri no? perché dico questo? perché negli ultimi 15-20 anni nell'amministrazione comunale ci sono state dei cambiamenti delle modifiche ora non è difficile ricordare che gli oneri quando venivano appunto fatti dei piani di zona di inizia privata eccetera eccetera venivano versati all'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale aspettiamo aspetti è avviso che c'era un po' di movimento spesso stanno a parlare no quello sentivo lo capisci era una cosa interessante quello sentivo il cuore che pure io non si può fare quando te capita più senti una cosa cosa così capito allora dicevo perché gli oneri quando venivano versati sui piani di zona di inizia privata eccetera eccetera andavano all'amministrazione centrale l'amministrazione centrale ovviamente non è che faceva tornare sul territorio li metteva nel bilancio e quindi quello che era era quindi ci troviamo per esempio con Tor Vergata che è scollata case fatte senza servizi senza opere di urbanizzazione e altri quadranti che comunque prima facevano le case e poi facevano l'opera di urbanizzazione negli ultimi anni che che se ne dica insomma nel 2009 quindi fatevi i vostri calcoli è stata approvata una convenzione nuova che recita in questo senso e dice prima per essere semplice perché poi se uso dei termini forse poi svio prima si fanno le opere di urbanizzazione e poi si costruiscono i comparti e si costruiscono le case questo nel 2009 quindi qualcuno poi faccia assonanza chi era il sindaco di allora questo perché perché molti quadranti molti molti diciamo comparti e zone di Roma avevano il problema di opere di urbanizzazione non completate quindi effettivamente si fa questo intervento bene si è creato un po' di problema perché poi dal punto di vista della crisi le imprese non avevano più la possibilità di poter anticipare opere di urbanizzazione di 2, 3, 5, 15, 20 milioni e quindi si è fatta una diciamo delibera chiamata 70 anticrisi che cercava di fare di portare in parallelo una parte dell'opere di urbanizzazione con una parte delle case dico questo per dire che ovviamente il riferimento erano le opere di urbanizzazione quindi negli anni la sensibilità è aumentata negli anni comunque qualcuno si è chiesto perché i soldi non tornavano sul territorio quindi le zone abusive i condoni quello che erano diciamo i quadranti di zona i piani particolari eccetera eccetera zone O tutto quello che uscivano e gli oneri andavano al centro e poi gran parte non ritornavano allora nel 94-95 quindi la legge 724 2312 94 secondo condone edilizio così ma sono scritta pure io faccio vedere che sono aggiornato hanno ovviamente in quel percorso hanno inserito degli strumenti che sono queste associazioni perché perché già da lì si cercava di capire come poter ovviare a questo problema per arrivare poi nel 2000-2005 2010 cioè nei successivi quinquenni per capire come poter intervenire perché è tutta la questione di oneri e quindi mi raggancio al fatto dopo questa premessa perché gli oneri in questi casi possono essere spesi direttamente a scomputo dall'impresa che fa la cubatura possono essere dati al comune e quindi il comune poi deve fare l'intervento oppure possono essere dati al consorzio di riferimento delle opere a scomputo però poi se noi evitiamo che vanno al comune e quindi poi al comune non ritornano faccio una premessa per far capire che non ritornano c'è un milione del contributo straordinario della BCC di Via Lucrezia Romana quindi che fine ha fatto il contributo straordinario di un milione passa dalla BCC di Via Lucrezia Romana non se ne sa più nulla perché è entrato nelle stanze ok nelle grandi stanze dell'amministrazione comunale quel contributo serviva per il consorzio per il quadrante per poter fare completare alcune opere tra cui la conclusione del riccio le acque che vanno appunto dalla parte dietro del raccordo tutta una serie di cose che c'è in piedi ci sono delle riunioni con l'ANAS eccetera e quindi tutti avrebbero contribuito consorzio ANAS e contributo a BCC non si sa che fine ha fatto ma ne riparleremo a giorni perché qualcuno ciò chiederà che fine ha fatto allora che succede che tu le dai al comune non tornano indietro diciamo beh noi li diamo ai consorsi i consorsi poi non fanno quello che devono fare allora a che serve tutto questo cioè se non possiamo utilizzare i soldi direttamente con lo strumento del consorzio allora è ovvio che delle tre soluzioni quella del comune non va bene il consorzio non li spende perché li spende quando li vuole spendere caro collega madrono è giusto quello che dice quando cerca di non fare tutta l'erbanfascio ma i consorsi va bene anche nel 2009 2010 2011 anche 2012 c'erano c'erano dei ben oggetti pronti ma sono stati tutti bloccati perché ovviamente ricadevano sarebbero ricaduti gli interventi in una consigliatura che non era adeguata per cui ci sono sempre delle motivazioni cioè tutto lo strumento viene utilizzato a proprio vantaggio questo lo dico perché è registrato e quindi rimane non ho problemi di ciò mentre sarebbero stati intelligenti che i consorsi chi ha 700 mila chi ha un milione e mezzo chi due milioni eccetera eccetera in carenza economica perché andiamo al Comune di Roma i soldi non ce stanno per nessuno perlomeno questi soldi potevano essere utilizzati direttamente sul proprio territorio allora e tutto lì poi c'è il problema quindi il problema degli oneri e i consorsi dovrebbero essere da dovrebbero fare quella cucitura da collante tra l'amministrazione comunale e il territorio ma anche la funzione dei consorsi è anche quella di sentire poi i cittadini del quadrante perché effettivamente lo strumento doveva tenere insieme le varie esigenze del territorio dell'amministrazione municipale e di quella comunale infatti quando abbiamo fatto le commissioni va bene sono venuti diciamo esponenti del dipartimento delle periferie hanno detto ma perché voi municipi non sapete niente di quello che serve o di progetti che ci stanno a voi non vi sottopongono chi ha detto no? ah già lo sapevi? e noi ovviamente facciamo la figura delle comparse per non dire un altro termine caro presidente Fantino comparse bene dicevo perché è previsto beh sarebbe ovvio che fosse previsto un passaggio di questo tipo ma perché sentono anche il quadrante sentono anche i comunitati di quartiere i cittadini che stanno lì no allora questo strumento che fine fa? cioè che che funzione ha? che risultati porta? però un po' dopo si è perso nei meandri delle procedure e quindi siccome ci sono tanti consigliere Giuliano gli manca un minuto quindi arriviamo alla conclusione grazie ci provo grazie grazie che bel presidente ma ci conduce anche la prossima volta? speriamo quindi nei meandri delle problematiche che ci abbiamo avuto è normale che poi il consorzio il piano particolare del zone O molta gente sta aspettando di poter comunque avere una risposta sono scaduti tanti di quei piani cioè tutto quello che è stato progettato è stato buttato nel secchio è normale che fra tanti problemi il piano regolatore non ci dimentichiamo che nel 2008 è stato approvato il piano regolatore cioè una cosa mastodontica è dato tutto di riflesso e qualcuno ovviamente che utilizza questo strumento anche per potere politico va bene perché quando tu puoi agire è sempre azione che ottieni e allora si è coperto dietro diciamo una vetrata capito una struttura non mi guardano non mi vedono porto mezzo progetto però non mi approva non lo cambiamo e rimane tutto così nella confusione nell'alone più assoluto 30 secondi per dire che questo strumento io sono sempre più convinto che bisogna comunque attenzionare finalmente ci siamo decisi se poi riscontra caro Presidente Poli se questo riscontra le attenzioni e la e la positività del territorio ben venga se ne riscontra di meno noi abbiamo fatto il nostro abbiamo messo in attenzione quello che serve ok poi cambieranno il regolamento non lo so fra quanto immaginate che la nuova convenzione per far sì che Roma riparta dal punto di vista urbanistico non si sa quando verrà approvata consigliere vediamo conclusione per favore sì grazie l'abbiamo approvata qui a dicembre prima di dicembre stava aprile quindi qui non gliene può fregare di meno a nessuno perché poi non c'è la convengenza politica e quando noi diciamo che c'è la convengenza politica dall'altra parte si mette la ride e io giustamente poi mi sento come di ma ci hanno ragione perché se stavamo aspettando la convergenza di che cosa la politica fa sintesi non convergenza deve sistemare grazie presidente per la disponibilità del tempo grazie consigliere Lozzi prego allora sul sito del comune quando si parla di consorzi opera scomputo sembra la valle dell'Eden cioè sì i consorzi le associazioni concerti di recupero urbano sono state create per agevolare la regolificazione delle periferie migliaia milioni di cittadini hanno accettato e si sono prodigati nel costruire nel fare questi consorsi perché avrebbero dovuto migliorare dall'oggi al domani queste periferie sono passati anni e almeno io negli ultimi due e anche mezzo prima che entrassi qua sento cittadini di questo di questo municipio soprattutto nelle zone extra gra dove di consorzi ce ne dovrebbero essere mi sembra quattro o cinque che continuano a lamentarsi ripetutamente per il degrado del territorio consorzi che continuano a farsi negare alcuni non tutti in commissione quando vengono convocati per capire il perché i progetti non vanno avanti se sono presentati non presentati in che fase sono c'è proprio mancanza di dialogo come se questo ente il municipio l'ente territoriale di prossimità più vicino ai cittadini fosse il nemico quando invece in teoria questi consorsi erano nati proprio per confrontarsi con il territorio evidenziare quale fossero le opere essenziali da fare in collaborazione con i cittadini con i consorziati con l'ente locale e poi presentarli al dipartimento invece sembra diventato un dialogo a due tra dipartimento e consorzio chiusi tra di loro dove noi non accediamo e per avere informazioni o facciamo le domande super precise al dipartimento o te le restituisci al mittente dicendo boh non ho capito forse dovevi chiedere con termine un po' più tecnico quello che volevi sapere noi abbiamo dei consorzi dove addirittura i vicepresidenti come da statuto che ho qua che si evince che sono vicepresidenti perché io ho difficoltà a credere che fossero vicepresidenti non hanno notizie da anni dei progetti dei bilanci di quando si riuniscono a me mi è sorto il dubbio a quella signora che è venuta da me mi ha detto cortesemente me lo porti lo statuto perché io non ci credo che sei vicepresidente mi ha portato lo statuto e lei è vicepresidente e non sa il consorzio cosa fa sul territorio non sa nulla qui purtroppo non manca la normativa o meglio la normativa c'è ma come al solito non viene applicata il dipartimento dovrebbe controllare le istituzioni dovrebbero controllare nessuno controlla non si chiedono i bilanci perché quando tu chiedi un bilancio e dici no ma il consorzio è privato privato non privato non si riesce a capire neanche lo stato giuridico di queste associazioni consortili se gestiscono dei soldi pubblici perché tali sono perché se dovevano confuire nelle casse del comune sono soldi pubblici e non sono soldi pubblici del consorziato sono soldi pubblici di tutti i cittadini perché se finivano nelle casse del comune il comune li utilizzava per tutti i cittadini non solo per rifare il pavimento sotto casa ai consorziati se sono soldi pubblici noi dobbiamo pretendere che ci sia pubblicità nei bilanci nei progetti conoscere l'ite puntuale sapere perché vengono o non vengono approvati sapere perché un progetto ha la priorità su un altro e chi lo decide soprattutto dove farlo e come farlo e va fatto con la cittadinanza e con l'ente locale che è il municipio perché il municipio dovrebbe sapere le necessità meglio del comune dei propri territori ad oggi questo non succede ad oggi questo non succede e quando il consigliere Madrona dice che i consorzi poi vengono tirati in ballo random solo quando servono i soldi importa ragione noi probabilmente i consorzi e il dipartimento soprattutto li dovrebbe tirare in ballo subito il comune non ha i soldi per fare le opere pubbliche sul territorio del comune di Roma i soldi sono nelle casse del consorzio sono soldi pubblici ok ci sediamo su un tavolino tutti quanti gli attori stabiliamo quali sono le opere da portare avanti si prendono i soldi e si portano avanti queste opere basta basta con non sapere chi sono come sono perché non si riuniscono perché i progetti non vanno in porto perché si bloccano non è etico non è etico quando stiamo in una città che sta degradando ogni giorno sempre di più noi con questa risoluzione chiediamo una normativa più chiara perché è giusto che sia così perché se in un periodo di crisi i soldi sono là è giusto che quei soldi siano utilizzati in modo corretto e coerente con le esigenze del territorio questo si chiede e quando si chiede un confronto con chi è presidente o vicepresidente di quei consorsi quel confronto non può essere negato visto che nelle loro casse ci sono soldi pubblici ed è questo che si chiede grazie grazie consigliere Lozzi per favore il pubblico eh lo so ho capito consigliere Lenci grazie presidente io ti esposirei ripreso continuerai ad essere ripreso allora io voglio iniziare con dire che la trasparenza non fa mai male soprattutto in questo periodo soprattutto perché negli anni passati forse ce n'è stata fin troppo poca il problema dei consorsi e quindi cioè la richiesta di mettere in trasparenza i conti dei consorsi chi ne è presidente vicepresidente io cioè se fossi un presidente di consorzio questa cosa non mi spaventerebbe anzi mi farebbe sentire tutelato perché se io sono onesto non ho problemi anzi proprio per mia tutela metto tutto in trasparenza il problema è che negli anni e sta andando sempre peggio questa situazione il municipio che è il primo ente di prossimità con i cittadini viene sempre più messo da parte e quindi noi che siamo i consiglieri che conosciamo profondamente il territorio eccetera non possiamo più neanche essere presi minimamente in considerazione quello che io non sono un tecnico e quindi non posso entrare nel merito della parte tecnica però quello che posso vedere è quello che noi cerchiamo di chiedere impegniamo appunto ad avere una maggiore trasparenza ad avere una maggiore considerazione e quindi mettere in trasparenza e decidere quello che vogliamo fare sui nostri territori con dei soldi che sono pubblici quindi non sono di nessuno grazie allora grazie consigliere Lenci non c'è nessun altro intervento Ciancio poi ce ne sono altri ok cofano prego consigliere Ciancio grazie presidente consiglieri io volevo fare un intervento un po' particolare d'invito di cambiare un po' questo modello perché stiamo parlando troppo da troppo tempo di questa situazione incresciosa però la materia è molto difficile e complessa quindi secondo me abbiamo gli strumenti per fare qualcosa di diverso velocemente rapidamente per ottenere qualcosa io ricordo al presidente della commissione ma io inviterei la presidente anche a prendere in mano la situazione rispetto a quello che ci devono restituire naturalmente tranquillizzo che mi ha preceduto i soldi sono vincolati tranquillizzo ancora dicendo che hanno versato le fiduzioni ringrazio la consigliera pentastellata che mi ha mandato alcuni atti importanti di questo argomento ne abbiamo trattato in qualche commissione un po' di tempo fa inviterei la presidente che ha la delega all'urbanistica e che sicuramente è capace di invertire questo modello con un'azione diversa rispetto a quella di una semplice risoluzione che forse sta precedendo di qualche momento una delibera che pone fine a questa situazione incresciosa che abbiamo rispetto ai territori io ho visto la risoluzione e manca una premessa fondamentale una premessa fondamentale è quella dell'importanza e quando sono nati i consorsi perché sono nati dopo l'esperienza di Bologna del recupero della città che cosa voleva dire per Roma in quel momento attuare i consorsi e cosa voleva dire finalmente progettare alcune opere direttamente dove sono stati fatti e emette gli abusi perché dobbiamo ricordare a tutti che le zone O sono quelle dove sono stati gli abusi edilizie e quindi è cresciuta in modo diciamo senza regole ma non solo senza regole addirittura c'è stato qualcuno che ne ha abusato di questo c'erano gli operai che avevano necessità della casa avevano necessità di edificare perché sul problema della casa erano caduti sei governi consecutivi quindi nacque il primo condone edilizio poi il secondo poi il terzo e naturalmente noi siamo abituati a condonare tutto e ahimè poi bisogna fare le opere le opere perché qualcuno deve versare quindi sulla scia del condone edilizio quindi sugli introiti per salare questi edifici entrano nei consorsi anche dei denari che non sono dei soldi che spariscono non sono dei soldi che spariscono perché io invito chiunque io sono riuscito a prendere solo una convenzione quella di quella di Lucrezia Romano se non sbaglio in cui ci ha annotato tutto quindi quando si dice il municipio non c'era non c'è il municipio c'è stato perché il municipio ha concordato col dipartimento tutte le opere che sono elencate nella convenzione quindi che cosa chiedo io chiederei all'assessore competente di focalizzare di più questo aspetto come quando ci siamo riuniti per dire a più primo oramanzi può fare più nulla perché la convenzione è stata firmata e me ciò dobbiamo prendere perché c'è una convenzione in essere e ha fotografato quello che ci daranno in futuro e sigillato nella convenzione anche per i consorsi eccola qua questa è Lucrezia Romano ci sono le filiussioni chi sono i chi sono i cittadini che hanno stipulato un atto un atto d'obbligo importante per cui c'è un atto che vorrei che venisse rispettato quindi noi come municipio io per questo ho avuto delle difficoltà perché non c'è qualcuno che si deve intestare perché fa prima nei confronti di chi parla alla pancia dei cittadini che aspettano le opere una delibera perché diceva ho fatto ho fatto la risoluzione no noi dobbiamo essere sicuri di portare a casa un risultato come? con gli strumenti che abbiamo per adesso e quindi per me l'importanza della seconda parte caro Presidente della Commissione Poli io lo lascerei intatto ma sulla prima parte di quello che chiediamo dovremmo prima attuare questo questo documento questo è il documento che sigilla gli accordi i progetti tutte le volte che il municipio attraverso la presidenza o la delegata o chi ha la delega all'urbanistica si è regato presso il Dipartimento per concordare quelle opere fiduzioni i progetti sono stati approvati quindi io dico questo benvenga la seconda parte che invitiamo i presidenti per instaurare un rapporto pacifico come diceva anche la consigliera prima e anche chi mi ha preceduto il consigliere Matronola invitiamo facciamo una discussione sana però qua non possiamo pretendere che si possa stravolgere tutto quello che si è deciso se qualcuno prima di noi medici non so chi chi ha operato nella stipula di questo contratto e questo è uno parliamo di due se non sbaglio di due convenzioni tipo mettiamoci un tavolino e lavoriamo su questo lavorare sulla protesta o sul sentimento oppure cavalcando che dico i comitati che ci giustamente per carità i comitati devono fare il proprio lavoro io dico che sarebbe stato molto più proficuo andare a vedere quali sono gli indirizzi del nostro comune della nostra maggioranza rispetto a questo problema che sta per varare una da libera e ce la proporrà tra qualche giorno per arrivare a una soluzione rapida io non lo so cosa bisogna fare per arrivare a decidere delle cose in modo collegiali senza fare questo teatrino che deprime qualsiasi forma di dialogo e di collettivismo io mi sono stancato di dover combattere per avere una virgola nel mio territorio questo ci spetta c'è un contratto se io sbaglio ho sbagliato per mettere un albero in meno l'ho pagato di tasca voglio dire qui ci sono validazione dei progetti tutto il resto e noi non riusciamo a farle sapete perché pensiamo che il tecnicismo abbia il primato il primato ce l'ha la politica cara presidente lei è il primato di tutto quello che dobbiamo fare in questo municipio glielo consento perché lei è la principessa di questo municipio per cui delego a lei questo aspetto la principessa perché la riforma del principe è stata proprio questa quindi io ripeto lei è la delega all'urbanistica lei è la delega all'urbanistica quindi prende in mano questa piccola operazione senza fare come dire mandare avanti fare delle fughe avanzate rispetto a problemi che non portano a nessuna parte io invito lei nella commissione delegata a leggere punto punto quello che è una convenzione sigilla per tutti noi per tutti i cittadini perché io sono cittadino di gregna come sono cittadino di tutti i posti di roma che è una città per quanto noi tutti facciamo di tutto per soffocarla vive e riuscirà a superare questi profondi squilibri che del resto la politica ha provocato e dovrebbe in questo momento storico secondo me cancellare cancellare con operazioni di trasparenza e quindi vengo al secondo risolvo è tutto intero lo lascerei caro caro presidente della commissione noi ci siamo astenuti rispetto alla votazione in commissione proprio per questo aspetto l'ha detto bene prima anche la mia collega ha fatto un panorama completo di quello che è e le modalità di lavoro quindi io ritengo e invito il presidente a lavorare in commissione su un atto che formuli e presenti queste problematiche proprio per questo il partito democratico diversamente se si asserrà dalla votazione rispetto a quest'atto formulato strumentalmente grazie grazie consigliere ciancio microfono per favore ciancio prego consigliere cofano grazie presidente mi premetto innanzitutto a monte del del mio intervento di ringraziare invece il presidente della commissione urbanistica che dopo le sollecitazioni che sono state mosse nel corso dell'anno da parte della comunità territoriale espressione di tutti i comitati di quartiere rappresentanti del nostro territorio e di conseguenza anche di chi li vive inclusi anche noi stessi di aver concertato quest'atto di averlo portato in commissione di aver consentito ai gruppi politici chiaramente chi è stato presente in commissione di portare il proprio contributo e di arrivare alla discussione odierna sul come nascono i consorsi chi un minimo ha affrontato il tema ha avuto modo di conoscerlo e di affrontarlo insomma il tutto è disciplinato dalla legge dalla 724 del 94 e nascono oggettivamente obiettivamente con una finalità che è assolutamente nobile ossia quella di arrivare alla costituzione delle opere di urbanizzazione in zone che sono sorte nei decenni passati dietro forme che non erano del tutto regolari ma che chiaramente i cittadini primi soggetti residenti abitanti di quei territori hanno versato gli oneri che anziché versarli dentro quel calderone generale che era ed è il comune di Roma in cui oggettivamente ci sarebbe stato il dubbio se poi quegli oneri sarebbero stati utilizzati per le opere di urbanizzazione del quadrante di riferimento il consorzio i consorsi si sono fatti carico di raccogliere questi oneri e destinarli alle opere di urbanizzazione del quadrante coinvolto per cui finalità più che nobile aggiungerei il tema è che ad oggi i risultati di questa procedura di questi procedimenti i nostri quadranti e i nostri residenti non li hanno visti non sono stati visti non pervenuti per diverse problematiche tra cui anche quella che da parte del dipartimento ci sono dei vulnus assolutamente presenti lo ricordava anche il consigliere Matronola sicuramente l'area di Vermicino compromessa in quel senso con progetti con progetti bloccati a livello dipartimentale idem me lo faceva presente prima la presidente del comitato di Cregna Sant'Andrea per cui è evidente che c'è un tema che va anche al di sopra di quella che è la reale situazione dei consorsi come enti giuridici come soggetti giuridici però c'è anche un dato che è quello che chiediamo noi con questa risoluzione ossia qual è lo status ad oggi dei consorsi status finanziario in primis ma anche il tema del chi è che va a regolamentare chi è che va a sancire dove devono essere realizzate poi le opere di urbanizzazione perché comunque da status da atto notarile esistono dei perimetri consortili dove i consorsi devono adempiere con la realizzazione delle opere di urbanizzazione è sempre stato così i consorsi hanno sempre ottemperato e realizzato opere di urbanizzazione all'interno dei perimetri ci sono stati casi in cui questo non è stato non è andato in questo senso per cui l'atto serve a ristabilire un minimo di trasparenza per sapere qual è lo status odierno dei consorsi e realizzare di concerto un modus operandi per sancire quali debbano essere le opere da realizzare nei quadranti coinvolti per cui io ritengo che tra l'altro la differenza tra metodo e merito a me appare purtroppo talvolta troppo strumentale per fare in modo che che di certi temi è meglio non parlarne per cui evidentemente io da questa presa di posizione non non mi trovo d'accordo e ribadisco che è essenziale oggi dare un seguito a quest'atto perché è oggettivamente una ferita del nostro territorio cioè per più di vent'anni quadranti delle nostre borgate abbandonate a loro stessi senza sapere dove erano stati destinati i loro soldi cioè è veramente vergognoso per il nostro territorio per cui ritengo che vada stoppata questa situazione e vada seguito anche il leader successivo all'approvazione qualora quest'Aula lo approvi per sapere anche a livello centrale e dipartimentale come si intende a proseguire su questa strada per cui c'è l'auspicio più grande che quest'Aula oggi possa dare il parere favorevole come è stato dato in commissione grazie grazie consigliere Gofano non ci sono altre dichiarazioni di voto quindi procediamo altri interventi scusate quindi procediamo alla dichiarazione di voto intervento intervento ok Lozzi ok prego consigliere Lozzi naturalmente come movimento noi siamo favorevoli strafavorevoli nel chiedere maggiore trasparenza su quanto riguarda i consorsi perché questo è chiedere trasparenza e mi sembra alquanto paradossale che un consigliere del PD si avvicina a questo bacco dicendo io voglio rendere ancora più dura e incisiva questa risoluzione e poi che fa si astiene perfetto rispettiamo le scelte politiche del partito di maggioranza complimenti continuiamo a coprire ciò che non va il nome non si sa di che cosa noi siccome siamo per la trasparenza e a differenza di tanti che ne parlano ma non la applicano noi chiediamo di conoscere in maniera precisa tutto ciò che c'è all'interno dei consorsi e tutti i progetti tutti i soldi tutto ciò che può essere utilizzato per il benessere del territorio quindi siamo favorevolissimi grazie consigliere ragazzi prego consigliere madronola tre minuti allora forse forse prima non mi sono espresso bene forse qualcuno non mi ha capito io intendevo che i consorsi vanno controllati ma lo strumento lo strumento per il controllo dei consorsi deve partire dal dipartimento è vero che noi come consiglio municipale più che come presidente io direi come consiglio municipale che forse è meglio dovremmo controllare e dovremmo verificare quello che serve o non serve nel nostro territorio però se poi a monte il dipartimento si arroga il diritto di controllare verificare non verificare i conti non approvare i progetti decidere quello che si deve fare e quello che non si deve fare pertanto noi nuovamente veniamo tagliati fuori e il decentramento riviene nuovamente bloccato perché non c'è più decentramento perché io ogni volta che chiedo qualcosa per quanto concerne il consorzio mi dicono vai al dipartimento vai al dipartimento e al dipartimento ma adesso vediamo convoco Tizio convoco Caio però al dipartimento giustamente ci stanno tanti presidenti dei consorsi ma tanti ci stanno tanti vice presidenti dei consorsi che fanno la fila che vanno lì parlano decidono e da lì secondo me dal dipartimento insieme a alcuni presidenti dei consorsi parte la strategia per quello che si deve fare o non si deve fare all'interno del municipio è vero che ci abbiamo noi non sappiamo effettivamente quanti soldi hanno i consorsi è vero anche che si parla chi parla 700 chi 800 però sono cifre che vengono sparate in là tanto per essere sparate però se i consorsi non rendono pubblici i loro bilanci in parte è inutile che parliamo di aria fritta perché non parliamo anzi fomentiamo ancora di più le chiacchiere e andiamo contro anche se qualcuno ripete io so che i consorsi io non so che i consorsi lo ripeto però la guerra non è che facendo la guerra risolviamo i problemi è meglio seduti intorno a un tavolo è meglio discutere e litigare intorno a un tavolo che scendere in campo e dichiararsi guerra perché mi dispiace pure che il Presidente mi sono pure inginocchiato dicendo Presidente grazie che è venuta tutto quanto ma se ne è andata mi dispiace è stato però poteva venire il nostro Presidente il nostro Vice Presidente visto che adesso è stato a Bermicino perché credo che sia stato a Bermicino scendeva giù e ci diceva magari che cosa gli aveva detto il Dipartimento perché sarebbe stata una cosa più bella più giusta più trasparente consigliere Matrono la dichiarazione che aveva già finito il tempo arrivo Presidente mi consenta e il problema sarebbe stato perché se noi continuiamo a criminalizzare anche il Dipartimento io sono il primo però non abbiamo la nostra trasparenza all'interno di questo Municipio cioè ci arroghiamo il diritto di dire noi vogliamo noi facciamo però poi qua dentro dentro al Municipio qualcuno fa come gli pare e quindi se ferma io dico sempre al quarto piano che è il piano d'Avorio mi dispiace che non c'è la Presidente che possa controbatteri su quello che dico io però ogni volta che dico che purtroppo le nostre decisioni vengono pese al quarto piano e il quarto piano consigliere Matrono il favore scaduto il tempo e deve dire la dichiarazione di voto quando c'era il dipattito adesso chiudo chiudo mi dispiace mi dispiace soltanto che che oggi nuovamente Forza Italia insieme a Fratelli d'Italia e al Movimento 5 Stelle e alla lista civica e alla notte faranno loro le dichiarazioni voto nuovamente rimandiamo la barca cioè rimandiamo le barche di salvataggio cioè non possiamo stare sempre a salvataggio per favore se fosse un'opposizione seria oggi affossavamo nuovamente invece noi siccome duro di orecchie consigliere su per favore oggi non voglio essere la dichiarazione oggi oggi anche noi votiamo allora siccome io ho spento il microfono e nemmeno se ne è accorto il consigliere vado avanti io scusatemi e comunico che la Presidente è dovuto andare è dovuto andare via per un impegno alla Regione allora prego consigliere Giuliano grazie consigliere Madronola allora per quanto riguarda la scelta dei servizi primari dei consorsi vengono sottoposte al municipio questo è quello che ha detto il funzionario del Dipartimento quindi riprendiamoci il nostro ruolo che tutto quello che può essere supportato dal municipio quindi come ruolo istituzionale lo deve fare i discorsi stanno a zero noi dobbiamo dare il nostro contributo quindi nel caso specifico noi dobbiamo anche sollecitare il Dipartimento e specificamente il Dipartimento delle Periferie a dover diciamo affrontare e dare anche dei pareri ai progetti ci sono dei progetti presentati nel 2013 che ancora devono essere diciamo verificati o dare l'ok questo significa che comunque sia nonostante che qualcosa si possa muovere poi c'è stata la burocrazia che blocca tutto quindi siccome qui capita spesso e volentieri che la gente viene da noi ok per qualunque problema viene qui e dice ma il municipio ha detto niente e noi dobbiamo dire il municipio non c'entra non ha competenze ok che succede che poi dopo noi facciamo la parte della comparsa io mi sono stufato di fare la parte della comparsa ok quindi voglio dire quello che mi sento di dire e voglio votare quello che per me è giusto votare in questo caso reputo opportuno che il municipio abbia un ruolo insieme al territorio si fa la verifica si controlla quello che è lo strumento in questo caso dei consorsi controlleremo anche quello che possiamo controllare ok per cui poi si va al dipartimento ci deve essere una rappresentanza del municipio e questi progetti vanno decisi vanno valutati e approvati perché sennò poi diventa fuffa poi che succede alla fine poi vengono qui la gente e ti dice il municipio non fa niente o sennò è finito l'argomento dei 5 minuti che facciamo tardi e non se fa il consiglio poi le cose vengono comunque a galla e non è che si può tirare indietro la faccia allora mettiamocela quando serve metterla utilizziamo il nostro strumento quando serve farlo ci lamentiamo quando non contiamo nulla ma quando dobbiamo decidere anche noi facciamolo no? quindi Fratelli Italia Alleanza Nazionale è favorevole grazie consigliere Giuliano prego consigliere Ladaga grazie presidente anche noi oggi sono solo quindi anche io voterò favorevolmente a questa risoluzione perché abbiamo condiviso il percorso in commissione su degli atti che ci sono stati mandati prima dal presidente Poli insomma diversi giorni prima della votazione in commissione di cui abbiamo potuto parlare in commissione insomma chi condivideva totalmente chi un po' meno ne abbiamo parlato l'abbiamo votata ma noi siamo assolutamente d'accordo perché è evidente e sono due anni io questa è la mia prima consigliatura sono due anni che ogni volta che incontriamo comitati di quartiere comunità territoriale cittadini nelle varie commissioni viene sempre fuori che questi fantomatici consorsi è vero che come dice il consigliere Matronola non tutti non dobbiamo ovviamente accusare una categoria o un gruppo però viene fuori spesso in molte zone in molti quartieri che poi non si sa neanche quanti soldi ci siano ancora nelle casse dei consorsi non si sa quando come e in che modo verranno spesi e come diceva prima qualcuno a volte si finisce anche per fare cose fuori confini fuori dalle aree di pertinenza dei consorsi quello che tutti ci dicono ci sollecitano e la presenza di molti cittadini oggi in consiglio come non vedevamo da molto tempo ci testimonia che c'è una situazione che non funziona questa è la cosa secondo me importante è evidente che così come sono regolamentati adesso o come i regolamenti che ci sono non vengono rispettati è evidente che c'è una situazione che non va una situazione a cui come parte politica dobbiamo cercare di proporre delle soluzioni di proporre delle alternative ed è quello che stiamo cercando di fare con quest'atto mi dispiace che alcuni colleghi hanno dichiarato che non che non voteranno io spero ci siano dei ripensamenti soprattutto se la discussione diventa su paternità fuga in avanti ma lo sto dicendo senza nessuna polemica e veramente sperando che si arrivi ad un voto diverso che possa dare un segnale forte anche ai cittadini ed anche al territorio perché ripeto insomma mi sembra che maggiore condivisione che portare le cose in commissione parlarne in commissione votarle in commissione non ci possa essere perché altrimenti insomma abbiamo più tardi votazioni su atti che non sono passati in commissione di ben altre entità evidentemente ma insomma io ho avuto modo di leggerli mi dispiace non averne potuto parlare in commissione scuola in commissione sport perché mi sembra una cosa molto bella che voterò con piacere e convintamente per l'utilità dell'atto ma insomma senza stare a pensare da dove arriva come arriva perché arriva così perché non sia passato in una commissione evidentemente i distingue che uno fa parlando non servono mai perché non sempre sono capiti da tutti ma questo è un problema di comprensione della lingua italiana e evidentemente gli elementari non sono state votazione per favore che è finito il tempo la votazione favorevolmente ok convinta favorevolmente ok allora non ci sono più interventi ah scusa allora io vorrei fare intervento per il partito democratico grazie 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 presidente devo dire che questo pomeriggio perché allora mettiamo da parte le polemiche sterile che non interessano a nessuno di chi e chi non è il capogruppo il nostro capogruppo è Franco Gugliotta che oggi pomeriggio non è presente per impegni personali per favore dichiarazione di voto grazie presidente però lei è simpatica è simpatica però adesso mi faccia mi faccia finire allora no semplicemente semplicemente sì abbiamo avuto tanta pazienza adesso tutti i teatri devono avere pazienza per favore Stellidano prego se no scade il tempo poi io gli chiudo non c'è problema prego se qualcuno mi interrompe io parlo sopra sono educato aspetto allora tanto per educazione dicevo all'aula per questo argomento che ieri sera abbiamo fatto le 11 per parlare di questo argomento al nostro gruppo e oggi pomeriggio il nostro capogruppo è stato convocato in Campidoglio la cosa importante che volevo dire è che qualche settimana fa alla Romanina c'è stata la presenza del sindaco dall'assessore ai lavori pubblici l'assessore Pucci che abbiamo parlato di queste cose e abbiamo iniziato un percorso un percorso importante e perciò ci vede molto favorevole il Partito Democratico deve lavorare in conformità con il Campidoglio per cercare di risolvere questo problema e perciò il Partito Democratico non so se il consigliere Poli in conformità diverso dal gruppo vuole votare diversamente ma il Partito Democratico vota favorevole grazie per favore scusate silenzio in aula per favore consigliere Cofano prego può intervenire silenzio per favore prego consigliere Cofano grazie Presidente il gruppo di sinistra ecologia e libertà voterà a favore dell'atto grazie prego consigliere Alenci grazie il gruppo misto voterà semplicemente in maniera favorevole perché ritengo che questa delibera sia corretta e a tutela dei cittadini e va a migliorare il lavoro gli strumenti che abbiamo avuto fino adesso riguardo a questa cosa grazie allora se non ci sono altre dichiarazioni possiamo andare allora passiamo in dichiarazione sentiamo un po' chi se qualcuno deve votazione votazione scusa votazione scusate allora favorevoli guarda un po' che carucci scusate Grazie. Voti contrari, astenuti, approvato la risoluzione con 19 voti favorevoli.